3, 2, 1, vai! E' in pausa di 5 secondi, mi trovo per sé. Ti cazzo, tu hai rimasto qua. Il cazzo allegorico è sbagliato. Il cavallo allegorico rappresenta i tre personaggi del nuovo Di Maio, Conte. Loro sono i protagonisti del nostro italiano. Frecciano insieme su di una, con loro viaggia. La giovane ragazza fresca è lì. Con entusiasmo e ottimismo verso un... Già si respira un'aria di... Buono! Va benissimo! Buono!